Sono passati pochi mesi da quando abbiamo festeggiato alla Camera il taglio dei vitalizi ora aspettiamo che esca i colleghi del Senato per festeggiare anche qui anzi devo dire la verità, tutta la volta abbiamo festeggiato vedendo un po' di spumante tutti assieme stavolta festeggeremo l'Italia 5 Stelle che sarà il prossimo fine settimana qui c'è un simbolico salvadanaio che contiene i risparmi ottenuti dal taglio dei vitalizi alla Camera ora arriveranno i senatori e porteranno il loro contributo agli italiani dimostriamo quindi che c'è una classe politica che va a tagliare i privilegi e non se li va a dare come è successo finora questa è una vittoria incredibile per noi ci fate vedere i cartelli in beneficio di noi per favore potete alzare i manifesti tutti insieme e per questo sia noi possiamo fare il passo indietro veniamo indietro ragazzi dai 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 dai